Buongiorno a tutti e benvenuti a questa intervista con l'autrice Katia Valen, l'autrice del libro Ottobre Ottobre. Oggi siamo qui per farle alcune domande sulla sua ultima uscita e anche sulla sua vita da scrittrice. Quindi io direi di iniziare subito. La prima domanda che volevamo chiederle è proprio riguardo al nome Ottobre, perché è sicuramente un nome originale. E volevamo sapere come mai hai scelto proprio questo mese? Perché non novembre, dicembre, un altro mese? I chose October because it's for me the start of autumn and I wanted to have the start of a season because it's the start of change when things become different and the book starts in October, it ends in October. It's about the cycles of life and the way that we change and stay the same. Ho scelto Ottobre perché per me è l'inizio dell'autunno e volevo che fosse l'inizio di qualcosa, l'inizio di un cambiamento. Infatti il libro inizia in ottobre e termina in ottobre proprio perché diventa emozionante che sia l'inizio di qualcosa di nuovo. Grazie. E riguardo ai personaggi, ce n'è qualcuno in cui si rispecchia del libro ovviamente maggiormente? All my characters are made up, but I think that when I was little I wanted to be wild like October. October is living the life that I wanted to live when I was a child. Tutti i miei personaggi sono inventati, però se devo nominarne uno io, la ragazzina, avrei voluto essere selvaggia come ottobre, quindi è quello in cui mi ritrovo di più. Ci sono altri personaggi che hanno ispirato ottobre? I think everything I write and every character I write is like a jigsaw puzzle of everyone I've ever met. So I don't create character based on one person, but I'm like a bird, a magpie, picking up little pieces of lives around me and putting them together into one character. Allora, penso che tutti i personaggi dei miei libri siano non la rappresentazione di qualcuno in specifico, ma un insieme, come un puzzle in cui i pezzi vanno ricomposti. e quindi è come, sono mi comporto come una gazza in qualche modo, che va a beccare gli elementi diversi che vuole utilizzare all'interno di un personaggio. La storia sembra imbilico in un momento più moderno e invece è un momento passato. Come è riuscita a renderlo nel libro attraverso le parole? Oh, that's a good question. I think I try and write just in the head of one person and that's why, when I write in English, I don't know about the translation, I don't use much punctuation. I'll let you translate. Allora, è un'ottima domanda. Posso dirti che quando scrivo cerco di farlo mettendomi nella testa, quindi dalla prospettiva di un personaggio. E una delle cose che faccio è non utilizzo molta punteggiatura. Non so come questo venga reso in italiano, però. Quindi uso, per esempio, frasi molto lunghe, osservazioni dettagliate, viste da vicino. Cerco di fare in modo di rendere l'impressione di vedere la vita dalla prospettiva di questo personaggio. All'inizio della storia, il padre trova un piccolo gufo. All'inizio decide di non salvarlo, ma poi andando avanti con la storia, decide di salvarlo. Cos'è che gli ha fatto cambiare idea? I think that even though she knows her father is right, she can't bear the thought of something that she loves, nature, animals, suffering, and she thinks she can make a difference. And I think when I was 11, I would have made that choice too. And now I'm much older, maybe I wouldn't. But I think that's part of a process we all go through as we grow up. When to take action and when to not. So, credo che anche se lei sa che il padre ha ragione nella sua scelta, non riesce a impedirsi, non riesce a fermarsi, non riesce a impedirsi di cercare di salvare qualcosa di così bello a cui tiene, che è legato alla natura. E quindi fa questa scelta a 11 anni, che è quella che probabilmente avrei fatto anch'io alla sua età. Oggi forse sceglierei diversamente, però questa diversità è proprio la cosa importante nel cambiamento. E sempre parlando del gufo, come mai ha scelto proprio questo animale come quello principale? I think birds in general are amazing and they are this sort of connection between the sky and the earth. They're almost magical and mythical. Allora, intanto penso che gli uccelli in generale siano la tipologia di animali, bella, meravigliosa, quello che ci collega tra, che collega l'infinito, l'esterno con dimensione umana. And also, you know the image of a ghost, which is a sheet with two eye holes, that is based on a barn owl flying at night. They are mysterious and beautiful and I wanted them to represent the sort of wild, magical place that October lives and wants to live in forever. Bellissima. Allora, ho detto, avete presente l'immagine tradizionale canonica dei fantasma? Il fantasma con il lenzuolo bianco e la sagoma degli occhi disegnata e basta. Ecco, quell'immagine viene ispirata a quella dei gufi dei fienili, questa tipologia di gufo, di animale notturno di cui indovini una forma un po' indistinta, però vedi bene gli occhi. E quindi volevo un riferimento proprio a quest'animale, perché all'interno di questa storia ci sarebbe stato bene. Purtroppo siamo già giunti all'ultima domanda, però abbiamo salvato il meglio per ultimo. Volevamo sapere se per caso lei ha mai dovuto affrontare un cambiamento così grande come succede ad ottobre, che si deve spostare dalla campagna alla città per poi tornare di nuovo in campagna. So, I haven't had this change, but I did base the book on a real place. About 10 years ago, my father-in-law, my partner's dad, bought a wood and he lives like October's dad. And so, that was a big change for him. And I thought, what if a child was here? What if they grew up here? And what if they had to leave? Allora, io non ho mai dovuto fare questo, vivere questo tipo di cambiamenti, però in effetti è ispirato quello che succede ad ottobre a un elemento reale, che è la scelta di mio suocero, il padre di mio marito, dieci anni fa cerca di comprare un bosco e di viverci all'interno come il padre di ottobre. E allora mi sono domandata che cosa e come vivrebbe un bambino qui, o una bambina, se dovesse viverci. Noi ringraziamo Katia Balen per le belle parole e tutti gli spunti interessanti e ci vediamo con il prossimo episodio della Mare di Libri TV. Grazie!